Ancora sangue sulle strade del Padovano. La tragedia a Vigo d'Arzere in via Roma. Erano passate da poco le 17 di domenica pomeriggio. Francesco De Paoli, 18 anni, a bordo della sua moto, stava facendo rientro a casa. All'altezza di uno stop, la soccorsa è finita contro quella di una panda condotta da un'anziana. Sembra che il ragazzo, studente dell'Istituto Duca degli Abruzzi, abbia tentato in tutti i modi di evitare la piccola utilitaria. Manovra vana. La sua moto si è schiantata contro la portiera della panda e lui è finito a terra. In tanti si sono fermati a soccorrerlo. Un medico gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Vana purtroppo la corsa all'ospedale di Padova. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Piove di Sacco. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Indagata la conducente dell'auto. Grazie a tutti.